buonasera eminenza parcialo buonasera buonasera lei eminenza volevo come andiamo eminenza molto bene molto ok 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 va caldo si chiama va caldo va caldo va caldo va caldo anche perché qua diciamo tra noi con questi vestiti neri specialmente con questi temi eminenza ecco volevo chiederne una grandissima curiosità perché i carabinieri si chiamano carabinieri allora mica siamo di oggi siamo di ieri questa è una buona pensata guarda non c'era mai pensata quindi ma lo sai che c'è ragione ha ragione sempre i carabinieri di domani saranno sempre quelli di manca parola a te e figurati un po io che parola che devo dire di fronte a una situazione di questa eminenza dobbiamo sfigare io vado una parte tu vai da una parte e io vado dall'altra prima di andare dame una bella benedizione una bella benedizione a te e famiglia e si ricordi che anche se i carabinieri di maschieri maschieri sempre una bella benedizione Grazie.